Cosa piglio qua? Forse Nguyen Tanto la chat vuole Nguyen Si l'ultime che hanno aggiunto facevano cagare di anomalie reghe Kinda agree on that Kinda agree on that L'ultime che hanno aggiunto facevano cagare ma su Twitter le stanno giga flammando infatti vediamo Vabbè ora Poi inizieremo anche il format nuovo eh questo ve lo dico Inizieremo il format che vi avevo... Ah porca troia è vero Cosa piglio qua? E' meglio lui no? Porca troia è vero che c'è questa? Inizieremo il format nuovo il Thunder Guess What da fare due volte a settimana Ieri abbiamo sentito per le grafiche eccetera Spero che sia pronto la settimana prima della pilla Così lo riusciamo a testare un attimo A caso vedere cosa va e cosa non va Vogliamo far fare le grafiche da fare a fine live Tipo dove la chat deve rispondere alle domande, indovinare eccetera Lì ci tengo a quella roba eh E' una roba per fare community eccetera 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 Ehm... come si dice Ehm... ieri abbiamo sentito il grafico e tutto Ehm... vi avevo girato anche insomma il documento eccetera nel telegram Poi magari verso fine live ve lo faccio vedere il documento della... Mh... di quel format lì Così mi dite cosa vi piace e cosa non vi piace Cosa faccio qui? Lo riprendo... Quasi quasi... non livello Quasi quasi non livello zio Sembra sgrava fare sta play Arrivo eh Che mi voglio far vedere sta roba Copy link Così vi faccio vedere un attimo dopo Dov'è che me lo posso salvare? Ho un don te lo mando in privato qua su twitch così almeno ce l'ho salvato il documento Ah cosa pigliamo qui raga? Mmm... Questo no? Penso Pigliamo i shari così facciamo il livellozzo con l'hero power nel chill Fa strano startare a questo ora, gonna be honest Cioè startare anche solo mezz'ora dopo è strano Buono Mmm... Do you think you're better off alone? Na 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 Ah questo qua ci darebbe tripla no? Doppia tripla oltretutto questo hp qua o sbaglio? Ha senso pigliarlo però perchè potrei pure livellare avendo due di queste faccio i raw power E gioco lui, non è male Potrei anche livellare avendo lui faccio hp così dopo doppia tripla Follia Non ho doppia tripla o tripla, non so perchè ho detto doppia Non so se dare le gemme qua o aspettare un turno Cioè a questo punto ci sta anche aspettare un turno no? Dopo tipo posso... Vediamo un attimo dopo come giocarla Sicuramente dopo vendo lui Gioco lui, vendo lui, triplo Ma la riesco a fare al tier al 5 E' un po' greedy probably Quanti ne prendo qua? Bah dai neanche troppi Avessi usato le gemme avrei perso Probabilisì comunque Minchia huge sta roba che ha lui comunque Bah secondo me noi l'abbiamo gestita bene qui Non abbiamo preso troppi damages Cosa vogliamo fare rega qua? Minchia doppia tripla questa no? Ah una la faccia al sicuro Qua Questo piglio Che obrobrio Dio buono Cosa piglio rega? Perché a questo punto io sono indeciso se Vendere e fare anche la seconda di tripla qua O farla al 5 dopo l'altra Cosa ci garba maggiormente? Rollo mi sa E la facciamo al 5 Porca troia questo era il nazzo Solo che ste gemme qua non le sto giocando boh Cioè non dovrei farsi un pezzo che tengo giù tipo al 5 dopo Oggi ti sei preso poli al fanta morto Perché Thomas? Come mai questa decisione Imminente di prendere poli al fanta morto? Cioè da cosa è dovuta capo se posso chiedere 860.442.9 periodico d'anni presi dio boia qua Non sei maturo capo se posso dire eh? Bella Nate Grazie Nate Grazie brother Boh vediamo quanto siamo morti sto game rega Allora c'è Bran Bronze Bear Che è sicuramente il carry più forte tra questi Solo che se prendo Bran cosa prendo d'altro rega? Non lo so Eeeh Devo per forza prendere Bran Cioè that's for sure Tanto questo lo tengo giù sicuro ora Prendo lei mi sa Che merda sta roba minchia Non bene eh sto game per ora Turno 6 Boh lui ha il 4 anche lui Vediamo cosa mmmm Vediamo Non perdo eh non perdo infatti Molto bene Prossimo turno Vediamo adesso Tanto qua non perdere il fight è ottimo Ci servirebbe l'altra 3 che discoverà pezzi tipo Quella sarebbe Rimiene un drago quando compri un pirata fornisce un oro Lo piglio questo Io lo voglio tanto e anche lui Deflecto Com'è deflecto? Ah questo è buono da divine a lei Ho questo qua un gran turno eh rega Minchia questo è buono di turno Non abbiamo fatto un brutto turno qua Eh Hai visto cosa è successo a Bruxelles capo? Ormai stiamo andando a puttane No cosa è successo? Non ho visto What happened in Bruxelles brother? If I can ask Cos'è successo a Bruxelles rega? Non ho mica visto Che sfiga ragazzi Porco dio però Madonna stiamo sotto il cap per sta roba ora Ma dai ragazzi Cosa cazzo è successo a Bruxelles? Codì ora Madonna che cazzo di robberi di loss Comunque incredibile cioè Fuiga questo è sgravo eh Adesso vi leggo rega questo non è brutto per baffare lui questo sarebbe a provare a baffare ci può dare gioie peghi ottimo con questo un po' lento però porca troia o no ce la voglio pigliare peghi da holdar in mano per dopo non mi sembra così buono questo sembra è buono ma non mi sembra cioè non così buono questo qua da divine lì vediamo mandato sul gruppo capo fa piacere che Edo sia cambeccato in maniera così prepotente zio Pera un nuovo armato probabilmente con un kalashnikov per il fuoco sui passanti nel centro di Bruxelles uccidendo due svedesi si segue a pista terroristica ma che cazzo sta succedendo al mondo nel gruppo telegram l'ha messo se vi interessa però non capisco così dal video ah no no ok si boh cioè boh non sono sono guarda che lo potevo far su di lui sempre più sconvolto incredulo anche qua ho sbagliato questo mi sa vabbè abbiamo due role vero certo che madonna santa pare che questo è prendibile secondo me dreams make you wish come true porco dios che roba e ho pista roba questo cos'è che ha servitori misti danno a 5 pezzi oh raga se crepo qua non so che dirvi se crepo qua non so che dirvi ok boh l'ho frizzata la tripla tanto è gratis praticamente cioè sono 3 gold mi danno a tripla considerando cosa l'altra amalgama in mano a voghera schifano pure i terroristi in caso scoppiassi una guerra ci ritiriamo tutti in uno dei bunker di molteni esatto a fine live potremmo fare una reaction a molteni l'ultimo video mi sa che non l'ho visto oltretutto il solito riguardo ma l'ultimo mi sa che non l'ho visto make you wish come true queste coppie però non so se mi interessa non penso cioè più che altro se non la triplo se non la triplo fa schifo cosa piglio rega qua lui ha murlock 3 madonna bigolo qua che piglio aghem ci garba no secondo me è meglio lui di aghem qui questo è prendibile però questo p questo non è male as well anche questo non è male per buffare lei cos'è che salta però forse questo è peggio sapete il 3-2 anche fa schifo perché ora questa c'è divine è vero meglio così prova lì orollo grazie grazie boh mi sembra mi sembra clean sta giocata bella chad lollo grazie del follo caro sembra clean sta player rega vi dico la veridad vi dico la veridad mi sembra clean alla fine se non ci scammano qui l'amalgama fa eh con divine shield op sto al bar bella lollo grazie del follo caro allora passivo vendetta più due salute i tuoi servitori più uno salute permanentemente i tuoi servitori ma no pigliano questo satsanaga ah però quante pizze che sto pigliando madonna che obrobrio però raga io che questo non è brutto non è brutto questo se lo riuscissimo a fare un minimo ma prova a pigliare va adesso vi leggo capi o roll se voglio no madonna che turno brutto porca troia eeeh piglio lui mi da attacco qua cosa preferisco prendere qui rega questo dubito secondo me è meglio lui almeno ci da stazzo ora che brutto turno madonna abbiamo fatto niente sto game c'è sto turno qua come si è ammessi su questo rega beh sicuramente questa è una buona hit anche questa dovuto mannaggia il caster azz affermazioni pesanti capo dovuto mannaggia il caster è è ammissione di d'amore quasi po' lo disintegro sto tipo è che con forse ne doveva livellare prima avendo bran però boh la cosa brutta è che siano sotto il cap altrimenti avrei già livellato e questo ne ha tirati 15 vediamo livellare ora non ha senso la roba è incredibile comunque non stiamo trovando nulla cioè in tutto il game non abbiamo trovato una volta e rinvieni è incredibile sta roba adesso a parte gli scherzi ok che non è likely però minchia trovarne uno di quelli che rinvengono non mi sembra follia secondo me è meglio questo qua è schifo c'è il cleave però questo è prendibile no possiamo fare a capì no I'll drive you crazy vabbè questo lo gioco due gold in più dopo se non moriamo non è male murlox dite che siamo morti da questo rega non lo so perché ma I guess I guess secondo me sono morto bella Mirchio buondì socio buondì capi buongiorno buongiorno todos bella terabyte primo game questo abbiamo startato un po' dopo oggi e aia però abbiamo il 6 di loss solo eh perché se questo qua non c'è il veleno questa da tirar giù è tosta c'è forza è tosta l'amalgama da tirar giù senza il veleno noi siamo abbastanza lì in sull'amalgama c'è da dire sto game non è stupenda come roba buono male in realtà lo doggiamo sto tipo si ma però non l'elimino sbaglio si no l'elimino l'elimino buono quindi almeno top 3 se non top 2 top 2 contro queste rovangiche sopra prima no quanto meno cazzo questo è buono fortissimo da dare qua no ho sbaglio che uomo non so se pigliare lui no rollo 2 minchia vabbè già è buono che riesco a giocare il terzo bim baby boh ho due rola gratis sto fermo evoca due di questi perché abbiamo la lakir quindi buona sta roba a mandare i messaggi sullo schermo dovete usare l'estensione tanja abbiamo messo l'estensione tanja dovete usare l'estensione se vi interessa mandare i messaggi sul coso questo è grosso però anche noi siamo grossi qui cioè non so come possiamo perdere da questo quanto meno ora che c'ho il oddio è grosso lui quanto meno che ora c'ho il potere di lakir ecco stavo dicendo bella free show bella menz com'è buono molto bene